Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento col Meteo di TV6. Le immagini satellitari parlano piuttosto chiaramente, ci mostrano un'Italia. Quasi del tutto sgombra da nubi grazie all'alta pressione che avvolge tutto il Mediterraneo. Lo farà per diversi giorni regalando non solo stabilità ma anche clima praticamente estivo. In Abruzzo si prospetta un sabato nel complesso stabile e soleggiato ovunque, quindi con bassissimo rischio di fenomeni più relegati alle aree montuose durante il pomeriggio. Però parliamo di fenomeni davvero di poco conto. Tra l'altro è dominio totale del sole e temperature in un terriore lieve aumento, massime quindi a 25-26 gradi con qualche picco di 27 gradi negli aree interne del pescarese. Le temperature minime tra i 10 e i 16 gradi, 20 debole a regime di brezza. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.